Ma sì, senza ombra di dubbio, questo va sottolineato anche perché comunque dopo una stagione dal punto di vista dei risultati sportivi molto deludenti, sicuramente i tifosi non si aspettavano queste difficoltà di ordine economico. Chiaramente va tutto inserito anche nel contesto economico-finanziario molto difficile che vive il nostro paese non solo in questo 2009, ma sicuramente è stata un po' una doccia fredda quella di vedere nei verdetti in primo grado della Covisoc il Perugia escluso dalle squadre iscritte al campionato. Sicuramente questi due giorni sono stati veramente pieni di ansia per i tifosi perché al di là, e lo vedremo poi se arriverà all'ufficialità come tutti speriamo, che sono stati degli organi competenti, sicuramente non va dimenticato che ci sono stati dei giorni frenetici che hanno fatto tornare i pensieri a quanto accaduto purtroppo quattro anni fa, quando per tutta l'estate Alessandro Gaucci corse in tutte le direzioni per cercare di salvare la società, cosa che poi invece non riuscì a fare. Anche se le cose erano completamente diverse, si tratta di un evito piuttosto consistente, io parlo di stato d'animo dei tifosi che purtroppo in questi giorni sicuramente si è riavvicinato un po' a quello là. Speriamo che sia soltanto una parentesi negativa e che da lunedì si possa pienamente tornare a parlare soprattutto di calcio mercato, visto che è la cosa che interessa di più ai tifosi. E le voci corrono soprattutto quando le cose vanno male, quando c'è difficoltà addirittura. C'è chi ha parlato di una possibile uscita di scena del presidente Covarelli, nei giorni scorsi sarebbe, ma usiamo il condizionale, queste sono voci che poi la società potrà anche smentire, sarebbe stato contattato un imprenditore non Umbro per ricevere in qualche modo la disponibilità a subentrare al posto di Covarelli, che ha cercato in questi giorni inutilmente di prodigarsi anche per il Pisa, Pisa che purtroppo è fallito e ricomincerà dai dilettanti. La risposta sarebbe stata affermativa, però chiaramente la condizione necessaria per proseguire nella trattativa era quella di iscrivere Perugia al prossimo campionato e dunque di questo aspetto probabilmente, se sarà vero, se sarà confermato, si parlerà nei prossimi giorni. In una giornata particolare perché in un anno sembra che proprio lo sport perugino stia attraversando una crisi difficilissima da superare. La scomparsa del calcio a 5, il rischio di iscrizione per il Perugia, l'altra notizia negativa arriva anche per la Despar Perugia che in una prima istanza non è stata ammessa il prossimo campionato di A1 e anche in questo caso la società avrà un paio, due o tre giorni di tempo per sanare questa situazione. Despar Perugia che naturalmente partecipa al campionato di pallavolo femminile. Ma sì, senza ombra di dubbio, un grande peccato questi problemi anche perché stiamo parlando della squadra più titolata dello sport regionale con tre scudetti, due coppie campioni vinte, tantissimi altri trofei e sicuramente il riferimento di questi ultimi anni per lo sport della nostra regione. E come dicevamo prima, la pallavolo soprattutto ne ha fatto le spese anche con l'esclusione, la rinuncia della Brunelli, non c'era la Serie A2, questo contesto economico molto difficile ha fatto sì che diversi imprenditori chiaramente tutelassero prima di tutto le proprie aziende prima delle società sportive che gli facevano riferimento. Quella della Sirio speriamo sia un problema momentaneo anche se comunque ci sono dei grattacapi mica da ridere, da risolvere entro due giorni per vedere comunque una società che tutti noi siamo abituati a vedere trionfare ancora protagonista nella prossima stagione. Prima di chiudere un paio di notizie, la prima riguarda il Foligno, si sapeva già, la Covisoccova ha comunicato che il Foligno è in regola con i Conti dunque ha dato l'assenza all'iscrizione al prossimo campionato, allora Foligno che comincia a muoversi sul mercato. Lascia comunque Foligno Matteo Coresi che è stato acquistato dal Crotone e dunque giocherà il prossimo campionato in Serie B. Qualche movimento in entrata anche per il Foligno Daniele Sborzacchi? Sì, sono arrivati in giornata due centrocampisti, Castellazzi di proprietà della Sandora nell'ultima stagione prima alla Ternana e poi alla Propatria ed anche Borgese che era in comproprietà appunto sempre con la Sandora, quindi il neotecnico Luca Fusi avrà subito a disposizione due pedine nuove per il suo scacchiere. Una notizia ultima in questa pagina sportiva riguardo un giovane giocatore camerunense che gioca con il Campitello, si tratta di Boris Louga di 14 anni che è stato acquistato dall'Inter. Il ragazzo addirittura avrebbe ricevuto i complimenti anche dal tecnico dell'Inter, José Murigno, che lo ha incontrato al centro sportivo Giacinto Facchetti. Louga era di proprietà del Campitello. Questa è una bella notizia che dimostra come i vivai, i settori giovanili delle squadre elettantistiche Umbre riescano a sfornare giocatori interessanti anche per il grande calcio. Vi ricordo naturalmente che sabato in Eticola ci sarà il giornale dell'Umbria con tutte le novità su questa intricata vicenda del Perugia Calcio con i servizi di Daniele Sborzacchi, Giuliano De Matteis e degli altri colleghi del giornale dell'Umbria che hanno seguito questa giornata frenetica in casa del Perugia. Ringrazio Daniele Sborzacchi, capo servizio sport del giornale dell'Umbria. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ringrazio Daniele Sborzacchi, capo servizio sport del Perugia Calcio